Doppio appuntamento a Lanciano con il teatro dialettale proposto dall'Associazione Amici della Ribalta nell'ambito del cartellone del Teatro Fenaroli. Cara moglia, tratto dal volume di Emiliano Gian Cristofaro e adattato da Mario Pupillo che ne cura la regia. La prima serata, il 29 dicembre, sarà in ricordo del professore Emiliano Gian Cristofaro, mentre la seconda sarà in memoria di Massimo Benedetti, autore delle musiche. L'emigrazione è il tema trattato, l'opera è ambientata nelle campagne abruzzesi degli anni 50. Cara moglia, prende ispirazione dal testo saggio del professore Emiliano Gian Cristofaro, a cui dedichiamo la prima serata di questi due giorni, e racconta attraverso le lettere la storia della nostra emigrazione, le sofferenze, le difficoltà, la fame, il distacco dalla famiglia, dai figli, questi figli orfani bianchi, che non conosceranno mai il vero padre, e poi tutto quello che c'è attorno, i tradimenti, anche le cose simpatiche, perché in questa realtà le sgrammaticature fanno ridere, fanno sorridere, ma poi c'è la terezza e la struggenza finale del ritorno, quel ritorno di una emigrazione che tutti quanti affronteremo. È un testo importante, è un testo che abbiamo elaborato con le musiche di Massimo Benedetti, a cui dedichiamo la seconda serata, è un'esperienza che ricordiamo con molto piacere, perché in questo momento noi che viviamo l'emigrazione dal lato opposto, ci può permettere di riflettere, di accettare ancora meglio quello che è un grande fenomeno a cui dobbiamo dare tutto il nostro cuore. L'emigrazione, sempre atto di violenza, non emigra chi sta bene. Esatto.